Bella ragazzi, buongiorno! Sempre qui dal mare, sempre dal vostro amico Marco Peperone. Come va? Eh, spero tutto bene, spero bene, spero che anche voi vi stiate godendo qualche giorno di meritata vacanza perché tutti ci meritiamo di fare qualche giorno di fere, tutti abbiamo bisogno di staccare e andare da qualche parte o semplicemente di stare a casa, stare con la famiglia, stare con la donna, con la compagna, con gli amici, insomma, con chi volete perché è giusto così alla fine, perché è giusto così perché la vita non è solo lavoro, anzi, la vita in realtà non sarebbe fatta ai lavori ma ci serve comunque per sopravvivere e lo sapete benissimo, lo sapete benissimo, a meno che noi andiamo ad abitare in Papua Nuova Guinea dove ci sono diverse tribù che vivono con quello che hanno e secondo me penso che a volte stanno anche meglio di noi dal punto di vista di stress eccetera eccetera, dal punto di vista di qualità di vita, oddio, magari qualità di vita proprio no anche perché hanno vari problemi poi di malattie e di cose varie però sotto certi aspetti secondo me stanno meglio di noi fatto questo piccolo preambolo di antroporofologia, insomma avete capito la parola parliamo di calcio giocato, parliamo di calcio giocato e parliamo di Milano ovviamente parliamo di Milano ieri vi ho parlato come ben sapevate di Messias che a questo punto è un giocatore praticamente del Genoa salvo complicazioni che non dovrebbero esserci riguardo la sua situazione di salute perché ha avuto solo un piccolo acciacco, niente di particolare, per il resto è un giocatore sano chiaro che Messias è da ringraziare per la professionalità che ci ha messo e per l'impegno rispetto a tanti altri giocatori che non sanno cos'è il rispetto, non sanno cos'è il lavorare duro eccetera eccetera per questo Cronici va sempre, andrà sempre ringraziato perché è, non è stato, è un professionista esemplare ed è anche l'emblema di un sogno di tutti quelli che vogliono arrivare io prenderei Messias come esempio di motivazione come scoop motivazionale da portare anche nelle aziende, ovunque per far vedere che una persona semplice che ha un sogno lo realizza, lo porta avanti e lo corona, lo corona nell'apice arrivando a giocare addirittura al Milan partendo dai bassi fondi, partendo comunque da fare un lavoro umile e rispettabile perché quello che faceva Messias era un lavoro umile e rispettabile fino ad arrivare a fare il calciatore professionista quindi auguro a Messias un futuro splendente spero che vada tutto bene per lui e che possa fare bene anche al Genoa perché a Messias si può curare solo del bene questo al di là di quanto poteva essere ancora utile al Milan e l'ho sempre detto, non è quello che serviva a una squadra come Milan che voleva, poteva crescere magari nel 2021 quando è arrivato poteva sembrare che serviva perché ricorderò sempre il gol all'Atletico Madrid spettacolare, ricordo comunque che è entrato col piglio giusto e si impegnava tantissimo le cose cambiano nella vita cambia la vita, cambia il lavoro, cambia tutto insomma bisogna stare al passo e per stare al passo a volte c'è bisogno di cambiamenti importanti anche in una squadra di calcio ed è questo quello che sostanzialmente sta avvenendo quindi Messias va al Genoa con un presto con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 2 milioni e mezzo di euro secondo me è troppo poco però ve l'ho sempre detto, ieri ve l'ho detto che il Genoa fa sempre affari col Milan il Genoa fa affari col Milan ieri ve l'ho raccontato che il Genoa riesce sempre a fare affari col Milan ma il Milan in questo mercato in uscita è molto strano perché sta veramente secondo me svendendo magari un parolone però sta dando a basso prezzo giocatori che potrebbe, poteva vendere di più e questo è solo sintomo di una velocità una voglia di vendere in maniera celere per ripartire è l'unica motivazione che mi do è l'unica motivazione che mi do quindi svendere per liberarsi degli esuberi in eccesso ora manca ancora Origi, Baloture e addirittura Sally Makers eh sì ragazzi, addirittura Sally Makers perché anche Sally Makers è ad lì è in orbita di cessione chiaramente perché anche se io non farei questi errori ma purtroppo siamo veramente in esubero adesso da qui ci mancava lì sulla fascia destra siamo troppi pensate un po' voi pensate un po' voi adesso siamo troppi vabbè, quindi anche Sally Makers purtroppo dovrà uscire o si proverà a farlo uscire mentre Krunic, abbiamo parlato ieri che comunque è stata assolutamente bloccata la sua cessione Krunic è, come ha detto qualcuno di voi io so perché Krunic rimane l'ho letto nei messaggi questa mattina che ieri non sono riuscito so perché rimane perché Krunic è colui che va a riferire tutto allenatore di quello che succede nell'ambiente praticamente il classico leccac puntini puntini questo è quello che diceva l'amico che ha scritto sotto non so se Krunic sia così io credo che Krunic sia semplicemente un giocatore che Pioli lo vede come adatto alle sue esigenze tutto qua, chiaro io non lo vedo adatto alle esigenze della squadra Pioli lo vede adatto alle sue esigenze e in questa orbita ho sentito qualcuno raccontare ieri che solo se parte Krunic allora si farà un altro tipo di operazione non credo, non credo non voglio sbugiardare i colleghi però ragionando per logica credo che visto comunque il Benasser che è fuori ancora fino a gennaio il Milan deve intervenire in quel ruolo in mediana anche come regista basso eccetera eccetera e si parla dell'acquisizione comunque costante di un altro giocatore uno è Dominguez del Bolognese che ne abbiamo già parlato qualche tempo dietro vi ricorderete bene, non è uscito all'orbita Milan il Milan sta seguendo Dominguez vorrebbe provare ha già il sì del giocatore per il giocatore ovviamente sarebbe un salto eccezionale dal Bologna al Milan sarebbe un ammiglioreamento della sua carriera vorrebbe venire al Milan infatti ha già il sì il Milan ha già il sì del giocatore e conosce bene il campionato italiano scadenza del contratto 2024 ci sono tutti i presupposti per poter prendere questo giocatore l'altra novità è Grujic il giocatore serbo del Porto di 27-28 anni se non sbaglio ex Liverpool che ha esperienze internazionali da vendere non conosce il calcio italiano però ha tantissima esperienza e potrebbe anche lui un mediano mediano, centrocampista può fare anche il trequartista però principalmente lavora nel vertice basso potrebbe davvero essere utile al Milan con l'esperienza internazionale che ha non è di primo pelo però proprio per questo ha grande, grande esperienza insomma il Milan monitora anche Grujic perché potrebbe essere un giocatore un profilo molto interessante c'è già stato qualche sondaggio nelle settimane passate se la giocano i due diciamo Dominguez e Grujic ripeto è un'operazione slacciata slegata da quello che è la permanenza ormai decisa di Krunic non è vero che se parte Krunic se non parte Krunic allora non si prende nessuno perché il Milan ha dimostrato di avere grosse difficoltà fra lì dietro di chi imposta il gioco chi fa interdizione in maniera importante nelle sue vertici bassi quindi c'è bisogno di qualcuno lì dietro io credo che il Milan abbia bisogno abbia bisogno ancora tanto so che siamo un paradosso per il mercato fatto fino adesso perché è un mercato di tanti nomi numericamente alto però credo che credo che il Milan abbia bisogno ancora di un difensore centrale e di un terzino un vice terzino destro un vice terzino sinistro e e come si dice un centrocampista appunto è un attaccante è un attaccante è un attaccante di peso ma adesso ne parliamo anche un attimo di lui di lui a proposito di difensore centrale è stata fatta la scelta da parte di Pioli clamorosa scelta clamorosa scelta di un giocatore che era già era già scusate accendo un po' l'aria perché sto a morire un giocatore che era già stato deciso di cedere tornato e non ha avuto fortuna il Milan era stato disegnato come uno dei giocatori in ottica futura più forti a livello di difensore poi si è perso fra infortune e cose varie perché è abbastanza delicato parliamo di Caldara bene il Milan l'avrebbe messo sul mercato di nuovo nuovamente perché non vuole più Caldara non l'ha mai voluto in realtà succede che Pioli decide di tenerlo anche Caldara decide di fargli fare il quinto il quinto difensore quindi posto di gabbia che se ne va vuole tenere Caldara da una parte è un'operazione secondo me intelligente senza andare a investire necessariamente su un altro difensore che poi sarebbe di poco ruolo di poca importanza a livello di efficacia in campo per giocare per giocare diciamo in prima squadra ma dall'altra non credo sia un'operazione giusta perché le motivazioni di Caldara ma non è più di rimanere al Milan è stato distrattato in diverse occasioni credo che però credo che il Milan doveva acquisire un giocatore un difensore molto più forte un difensore che potesse veramente dare una mano a questa squadra un difensore di esperienza però evidentemente Pioli ritiene essere a posto così io ho visto comunque una difesa traballante ho visto un Tomori molto nervoso e questo mi fa pensare che avremo qualche problema lì dietro anche perché non amichevoli che sono comunque pur sempre amichevoli comunque ho visto che la difesa traballa cioè Tomori è troppo nervoso e di conseguenza trasmette la sua insicurezza il suo nervosismo a chi sta a fianco anche a Malik ciao e anche a Kalulu quando gioca insieme a loro quindi secondo me ci voleva altro qualcosa in più ma ci vuole sicuramente il terzino adesso il terzino sinistro per il vice Teo e il vice Calabria anzi io metterei qualcuno come titolare al posto di Calabria perché ripeto Calabria in fase di in fase di difesa è veramente è veramente carente quella fase di non la sa fare bene Calabria mi allaccio un attimo al discorso di qualcuno che mi ha detto che non è vero che Singo è mai stato in orbita a Milan e invece sì e invece sì Singo lo è stato e come tanto è vero che poi appena Singo è stato ceduto all'Atalanta perché siamo lì se questione di ore se non già fatto il Milan ha subito accettato l'offerta del Genoa che è arrivata sì come un fulmine a ciel sereno ma non è che non è stata sicuramente non era programmata ma comunque se ne parlava col Genoa e il Milan attendeva di poter concludere o meno questo accordo fra Coltorino con lo scambio di Messias e Singo più con Guaglio questo non è venuto Singo è andato comunque all'Atalanta e il Milan ha deciso di cedere Messias poi a Genoa le operazioni in un certo qual modo erano anche legate quindi le cessioni erano anche legate in questo senso detto ciò qui girano tutti con i cani la mattina sono solo uomini tutti con i cani sono solo uomini sono qui da 20 minuti dai vari cancelli sono usciti solo gli uomini con i cani non esistono donne che portano a spasso i cani solo uomini vabbè a parte questo perché li guardavo 1,2,3,4,5,6,7 tutti con i cani detto questo quindi ho fatto questo discorso abbastanza importante riguardo alle entrate e le uscite manca un discorsino che volevo fare con voi che riguarda proprio lui l'attaccante l'attaccante sappiamo che Giroud non può dare determinate garanzie però comunque l'impegno ce lo mette fa quello che vuole fa quello che può ma non basta non basta vi ricordate di Lukaku Lukaku a me non sta simpatico non mi piace come atteggiamento non mi piace come persona non posso dire granché come calciatore perché Lukaku visto nell'Inter precedente ma anche l'anno scorso non ha fatto male tutto sommato verso la fine del campionato bene Lukaku era in orbita Juventus con lo scambio con il Chelsea con il Vlaovic eccetera eccetera salta lo scambio il Chelsea non prende più Vlaovic viene fuori il casino la Juve non può prendere Lukaku se non vende Vlaovic perché è un ingaggio pesante anche quello di Lukaku è pesante comunque sono 10-12 milioni bene se saltasse con la Juve attenzione perché potrebbe davvero tornare in orbita Milan con ovviamente una grossa riduzione dell'ingaggio Lukaku pare sia disposto anche a fare questo sacrificio pur di rimanere in Italia perché lui vuole rimanere in Italia le alternative non ne ha tante Lukaku l'alternativa sarebbe l'Arabia Saudita dove lo accetterebbe però pare che lui voglia giocarsi ancora le sue carte ad alti livelli e l'Italia è il paese in cui preferisce stare evidentemente dove ritiene di poter giocare a pallone meglio dove può esprimere il suo tipo di gioco meglio bene c'è questa vocina che circola che Lukaku potrebbe davvero essere tornato in orbita se mai lo fosse stato in orbita rossonera ma è ovvio e chiaro che questa operazione si potrà concretizzare solamente se si abbassasse l'ingaggio è anche di tanto però però che dire il davanti Leao Lukaku e Chukueze non ci sputa esattamente sopra al di là delle antepatie che ho nei confronti del giocatore al di là di questo fatemi sapere quello che vi pensate intanto vi auguro buona giornata sempre e comunque forza Milan noi ci sentiamo più tardi e adieu